Quando si inizia un grande cambiamento bisogna andare fino in fondo e quindi riaccomi. Welcome back, I totally agree. Ciao, ci sono anch'io. Si dice che la prima volta è sempre la migliore. Io scommetto sulla seconda. Ehi la, non vi siete liberati di me, ci sono anche quest'anno. La musica sarà ancora più protagonista. Il talento sarà nostro unico obiettivo. Finalmente si abbattono i confini. Quest'anno le nostre squadre ci assomiglieranno davvero. Via le etichette di genere, età e formazione. Forget under donna, under uomo, band, over. Saremo liberi di scegliere gli artisti a prescindere dalla categoria. Ognuno di noi seguirà la propria idea di musica. È una rivoluzione. Sarà un nuovo X Factor, non vedo l'ora. Siamo gasatissimi! Voi siete pronti? È tutto chiaro? Ma come? Dai, regà. Ma le categorie era l'unica cosa che avevo capito?